Questa è una sfida che va vissuta non contro il cittadino, cioè è giusto che si comprenda questo. Non è il comune che agisce contro il cittadino, è il comune che agisce accanto al cittadino. Una raccolta differenziata che sta vivendo dei tempi non piacevoli, ma che con l'aiuto delle istituzioni cercheremo di risolvere, e quindi di aumentare quelli che sono gli indici della raccolta differenziata, con le conseguenziali lotte all'abbandono dei rifiuti, all'inserimento di determinate normative, all'inserimento di sanzioni amministrative molto più pesanti per i cittadini che abbandonano i rifiuti e premialità nei confronti dei cittadini che mantengono un elevato indice di raccolta differenziata. I cittadini virtuosi avranno gli sconti sull'Atari, abbiamo introdotto un unicum a livello regionale, e cioè il peso dell'organico, che fino ad ora, diciamo alla fase antecedente dell'emanazione del nuovo regolamento circa la raccolta differenziata, non ne teneva conto. Quindi i cittadini pesavano solo plastica, cartone e vetro, e invece adesso abbiamo aggiunto l'organico, proprio per venire maggiormente incontro a quelle che sono le esigenze economiche dei cittadini. Il cittadino va lì, pesa l'organico, ha una diminuzione della tassa sui rifiuti. Molti uomini sul territorio, bonifica dell'agro, bonifica delle spiagge, lotta all'abbandono, però è chiaro che tutto questo richiede un elemento fondamentale, che è quello della collaborazione.